Avrebbe sterminato un'intera famiglia, ma per la corte d'appello di Caltanissetta è incapace di intendere e di volere. Con questa motivazione è stato assolto il licatese Giuseppe Centorbi, 42 anni, che nel giugno del 2011, nelle campagne di Contrada De Susino, fra Butera e Licata, avrebbe ucciso i compaesani Filippo Militano, 48 anni, la moglie Giuseppa Carlino, 45 anni, e il figlio della coppia Salvatore, 13 anni. I giudici hanno accolto la richiesta del difensore Salvatore Macri, alla quale si era associato anche il procuratore generale. Centorbi verrà ora scarcerato e ricoverato in un ospedale psichiatrico. In primo grado il gruppo di Gela lo aveva condannato all'ergastolo. Centorbi nutriva forti rancori nei confronti di Filippo Militano, perché riteneva di essere stato defraudato dal vicino. Nel corso del processo, l'imputato è stato sottoposto a perizia psichiatrica e, secondo i medici al momento della strage, l'uomo non era in grado di intendere e di volere. I giudici del Tribunale Nisseno hanno pertanto assolto Giuseppe Centorbi.